Il grande ritorno a Dimola e al Palaruzzi di Davide Burutini per DailyBasket.it Lega 2. Quali le tue impressioni in questa vittoria? Sicuramente una vittoria importantissima per noi, dopo questa doppia falsa partenza si è incompatabile e mi è stanzionato. Venire qua, rinnovare questo campo, poi per me è stata una grandissima emozione, perché qua io ho passato tre anni in mezzo a venire, la gente è fantastica, mi ha portato benissimo, però per noi era troppo importante vincere, l'abbiamo fatta, è stata durissima e l'abbiamo è stata la difesa, tanto lo sappiamo e se difendiamo forti possiamo fare grandi cose.